Una collezione dedicata a una grandissima donna, Monica Vitti, quindi un tripudio di colori, di geometrie, di fantasie, in vista di un'estate bellissima. I tessuti utilizzati sono gli chiffon, i georgette, le setaine, tessuti di duchesse che esaltano il corpo della donna. La donna Giada Kurti è una donna che non rinuncia alla propria femminilità ma gioca con la sua sensualità e la sua bellezza interiore. La donna Giada Kurti è una donna che non rinuncia alla propria femminilità. La donna Giada Kurti è una donna che non rinuncia alla propria femminilità. La donna Giada Kurti è una donna.